io sono francesca vengo da foggia e sono qui perché ho finalmente realizzato un sogno quello di mettere mamma in mare perché mamma ha come tanti altri dei problemi di deambulazione pertanto ho deciso di fare questa esperienza per provare anche a vedere la reazione di mia mamma in acqua devo dire che sono felicissima perché attraverso questa esperienza ho anche capito che una riabilitazione in acqua può essere fondamentale per il problema che ha mia mamma vi abbiamo conosciuto attraverso internet c'è un'equip fantastica perché finalmente abbiamo anche il supporto non solo morale ma proprio anche fisico di tutte queste persone che sono qui per aiutarci e grazie a questo è stata posso dire che è stata una vacanza comoda sia per noi ma soprattutto che per soprattutto per mia mamma la cosa fondamentale per mia mamma e non avrei mai pensato che ci potesse essere è stato il sollevatore quindi gli spostamenti dalla carrozzina al lettino la lettina alla carrozzina tutte le sedie utili per poter entrare in acqua e soprattutto il bagno per poter risciacquare insomma la salsa edine io credo che siano tutti i servizi fondamentali e sono stati tutti necessari per mia mamma alla ultima domanda adesso tornando a casa e troverai degli amici così racconterai per prima cosa c'è un aneddoto non ricordo qualcosa che ti portare nel cuore mi porterò nel cuore il mare fantastico l'esperienza appunto di mia mamma che finalmente in acqua ho visto muovere un po di più le gambe la vostra il vostro sostegno il sostegno di tutti quanti voi quindi infermieri os tutti i volontari che ci sono stati vicino anche a volte per scambiare una semplice chiacchierata e devo dire che sarà fantastico consigliarlo ai parenti che hanno queste queste stesse problematiche perché realizzare il sogno di poter andare al mare d'estate è qualcosa di eccezionale cioè fino a qualche anno fa io non avrei mai pensato di portare mamma al mare e se lo facevo era soltanto un andi rivieni nel posto più vicino in foggia comunque scomodo per lei perché insomma il trasporto fatto in questo modo per lei non è non è una cosa semplice invece stabilirsi e poter fare tutte le giornate di mare è un qualcosa di fantastico quindi è un posto che consiglierò tantissimo a tutte queste persone che hanno queste problematiche io posso